stracandidi di youtube ben trovati devo trovare la forza dopo un'ora e mezza passata ad ascoltare la conferenza stampa l'intervento chiamatelo come vi pare di aurelio de laurentis di oggi e per imbastire un video ma non per spiegarvi il mio punto di vista nemmeno per avere la presunzione di provare a riassumere i concetti del presidente de laurentis perché avete le orecchie se avete tempo e voglia di distruggervele attraverso le parole di aurelio de laurentis fatelo pure se non ne avete voglia leggete ci sono siti che riportano tutte le dichiarazioni complete senza filtri del presidente del napoli però due parole a commento di tutto quello che è stato detto non so se saranno due o più parole credo molte di più vanno dette perché onestamente se fino ad oggi abbiamo conosciuto aurelio de laurentis e spesso quando lui parla ci viene quella 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 sorta di fastidio no nell'ascoltare delle cose che ci fanno incazzare beh oggi abbiamo veramente toccato il fondo è oggi abbiamo veramente toccato il fondo perché se pensavamo ci siamo illusi di riuscire ad avere delle reali risposte delle reali ammissioni di colpa così non è stato così non è stato perché sono state mezze parole mezze ammissioni di errori perché lui sbaglia ma sbaglia perché la sua non è un'azione ma è una reazione a un qualcosa che gli viene fatto e la preoccupazione è che quindi non se ne esca fuori poi che lui sia un imprenditore non un prenditore perché l'ha specificato più volte ci può solo far ben sperare che abbia voglia di continuare a investire nella sua creatura a livello di infrastrutture a livello di giocatori a livello di ingrandire la società lui parla di un progetto che punta al 2030 quindi non è un progetto a breve scadenza quindi è una corsa che il napoli dovrà fare con il tempo perché poi lo specifica per tornare ad avere una squadra vincente ci vorranno tre anni bisogna però capire che cosa ci sarà all'interno di questi tre anni prima di continuare io vi invito a lasciare un pollicione stracandido commenti cercherò di leggerli tutti se riesco rispondo a tutti ma soprattutto mi raccomando iscrizione al canale con la campanella per restare sempre aggiornati sui temi stracandidi io già lo so già lo so perché lo vedo ogni volta in cui si parla di De Laurentiis nei commenti sotto ai miei video lo vedo anche nei commenti dei video di altri colleghi youtuber magari amici conoscenti leggo che c'è sempre ma è sempre stato così le fazioni i papponiani definiamoli così e gli anti pappone perché ormai questa no la la pappoca ci so questo non è un video pro pappone o anti pappone cerco di rimanere il più neutro possibile nel raccontare quello che ho ascoltato non voglio prendere una posizione pro o contro non è questo che mi interessa ma chi mi conosce mi segue dall'alba dei giorni sa che a me del pappoca c'è sord o del pappo sei un fenomeno non me ne è mai fottuto un cazzo perché l'unica cosa che per me conta è il napoli se il napoli va bene io sono tranquillo se il napoli va male mi innervosisco punto pappone o non pappone chiuso il cerchio perché se no si continua sempre a dire ecco tu sei una 16 mai detto mezza parola sulla 16 mai ve lo giuro mai eh ma tu sei troppo filo della orentis chi lo è mai stato quindi prima di dare gli giudizi se avete la voglia ascoltatevi fate un'idea se poi invece volete giudicare semplicemente dal titolo semplicemente tra le due parole che sentite all'inizio eh fate come vi pare fate come vi pare allora partiamo dagli errori l'errore principe è quello di non aver insistito nel trattenere spalletti anche dopo che lui ha ha inoltrato la pec che aveva diritto ed era anche un suo dovere inviare se riteneva di dover far scattare l'opzione per rinnovare spalletti per un ulteriore anno spalletti diceva la pec declina l'offerta dicendo che non aveva più voglia eh aveva voglia di un anno sabbatico poi della orentis butta anche lì perché è giusto che lui butti anche un po di polemica e a chi me lo garantisce che magari non aveva già una mezza parola con gravina giustamente è un'illazione e anche lui una volta che la dice fa un passo indietro tira il sasso poi tira indietro il braccio perché giustamente è meglio che tu ti eviti anche qualche querera perché sai se tu dici spalletti ha declinato l'offerta perché era già in parola con gravina ti metti in una posizione scomodissima quindi che cosa avresti dovuto fare se tutta la conferenza stampa no gira intorno a questo gravissimo errore che cosa sarebbe successo perché lui dice io avrei dovuto insistere poi arrivare a quelle che sarebbero state le naturali conseguenze quali sarebbero state le naturali conseguenze che spalletti dava le dimissioni e cosa fai poi rifiuti le dimissioni c'è spalletti dava le dimissioni rinunciando ai soldi e tu eri comunque punto da capo quindi che errore è non è un errore l'errore è stato quello di insistere troppo spalletti ti sta dicendo che non ha più le motivazioni per farlo indipendentemente da quale sia la causa scatenante devi lasciarlo andare è un po come due persone che stanno insieme no uno dice io non ti amo più non ho più gli stimoli per stare insieme a te cosa fai lo fai andare via e ma il mio grave errore è stato farlo andare via perché io potevo farla rinnamorare di me presidente su e quindi su questo primo punto che che errore è non è un errore è stata la cosa giusta da fare il problema arriva dopo perché tu hai voglia a snocciolare numeri no garcia non era un bollito così come non era un bollito mazzarri non era un bollito ci snocciola i numeri della carriera di garcia anche qui ma possibile che tu venga a dirmi che hai scelto garcia perché i numeri che lui aveva in carriera testimoniavano il fatto che fosse un allenatore ancora sulla cresta dell'onda quindi lo hai scelto per i numeri ma che cazzo di ragionamento è e allora perché sei andato a prendere tiago motta o a ipotizzare di prendere tiago motta che non ha numeri quando hai scelto sarri e tutti ti sono andati contro ti sono andati contro perché salvi non aveva il curriculum quindi si può sapere che qual è il modo con cui scegli un tecnico il curriculum sono le sensazioni il modo di lavorare qual è quindi anche qui snocciolare i numeri è controproducente perché non dovevi andare a vedere i numeri dovevi andare a vedere la pill l'empatia poi lo hai anche detto lui aveva questo atteggiamento da francese con la puzza sotto il naso no motivo in più per non sceglierlo uno così e invece quello è proprio questo è l'errore quindi l'errore è la scelta di garcia sul mercato qualche giornalista anzi tra l'altro applauso ai giornalisti perché non si sono trattenuti domande anche provocatorie bene così bene così con un carratelli sugli scudi che poi è stato un po non perculato è ma si è si è girato intorno alla considerazione che il buon mimo ha fatto alla fine della conferenza stampa forse meritava un pochettino di attenzione in più quella quella domanda e una risposta un po più che ci avesse spiegato veramente se il fatto che de laurentis abbia un brutto carattere spesso vada a dar fastidio agli interlocutori con cui poi deve andare a firmare dei contratti e spesso questi non vengono firmati però c'è stata anche questa considerazione sul mercato si è chiesto di kim lui ci dice che kim già a settembre dell'anno scorso si sapeva che doveva andare via cioè quando ha firmato e quindi tu hai un anno per muoverti in direzione di un calciatore diverso forte pronto per andare a sostituirlo e beh io non è che posso a febbraio già andare a prendere un calciatore per cosa come no e l'inter adesso che tu hai anche citato non citandola le squadre che hanno un miliardo di debiti e che partecipano alla serie a ogni riferimento è puramente casuale ho voluto l'inter oggi sta facendo il mercato per giugno andando a prendere due parametri zero come e zeninsky e taremi perché così può programmare le uscite eventualmente per rifare budget è una situazione diversa quella dell'inter siamo d'accordo però ci stanno pensando oggi che è febbraio non aspettano giugno e lo stesso vale anche per mazzarri quando su mazzarri gli dicono ma possiamo spendere qualche parola per che ne so magari confermarlo anche per la prossima stagione lui dice calma e dice una cosa pesantissima perché il nostro campionato meglio la nostra stagione comincia il 18 di febbraio cioè quindi noi fino a oggi cosa abbiamo fatto e fino al 18 di febbraio che cosa cazzo abbiamo fatto abbiamo giocato ci siamo divertiti abbiamo scherzato è tutta una finzione è un incubo ci stiamo risvegliando è il 5 di giugno e abbiamo fatto un incubo lungo metà stagione ci risvegliamo a cazzo è il 18 di febbraio adesso comincia la stagione meno male non abbiamo accumulato 20 e passa punti dall'inter ma oh ma che cazzo di roba è questa poi avete voglia venire sotto a commentare che cosa te lo prendi con de laurentis lui ci ha preso dalle fogne per 37 minuti ma basta con questa storia questo ha detto che il nostro campionato comincia il 18 di febbraio e che fino oggi cosa abbiamo fatto assurda questa questa cosa qui del 18 febbraio è di un assurdo che più assurdo non si può poi però la conferenza stampa verte anche sul futuro ma sul futuro societario chiaro centro sportivo entro 24 mesi se il comune non mi dà il maradona entro 120 giorni lo stadio vado a costruirlo da un'altra parte probabilmente ad afragolo giusto sbagliato che sia sinceramente ci sono quelli che no lo stadio deve essere costruito a napoli signori a napoli non si può fare lo stadio non si può fare quindi che vi piaccia o meno se questa società deve crescere de laurentis non de laurentis perché de laurentis non è immortale quindi ci sarà un napoli senza de laurentis un giorno non lo so che si deve però sostenere su basi solide e avere uno stadio di proprietà è una base solida che questo sia a napoli o ad afragola o a pozzuoli dove vuole lui l'importante che lo stadio di proprietà ci sia mi sta bene questa progettualità poi vediamo perché sono anni no che andiamo avanti con il centro sportivo e lo stadio poi non succede mai niente vediamo gli sviluppi diamo il beneficio del dubbio perché il futuro è il futuro e si può pianificare ma poi ci sono cose che possono non possono andare bene quindi però dice una cosa io voglio vincere che è un po' quello che noi napoletani che si sia allo stadio che non si sia allo stadio abbiamo sempre detto e abbiamo sempre imputato a de laurentis noi vogliamo vincere però è anche vero che non puoi pensare di vincere tutti gli anni e che per vincere e usa questa parola rispettando le regole devi fare tutto bene e devi anche essere un po' aiutato dalla buona sorte la buona sorte nella scelta di un giocatore che magari è forte ma che però poi non rende per quanto lo paghi ma anche la buona sorte in campo ci sta ora come possiamo chiudere l'argomento io mi aspettavo di più ero uno di quelli che dopo l'uscita dello stesso presidente dopo napoli monza ero contento perché ho detto cavolo lui ha sempre difeso a spada tratta le proprie scelte le proprie parole i propri errori anche senza ammetterli mai e adesso invece in una situazione completamente disastrata petto in fuori ci dice ho sbagliato vi dirò quali sono i miei errori ma ho sbagliato poi però a distanza di un mese e mezzo vieni qui in conferenza stampa cercando di farla finire non più a tarallucci e vino ma a pasta e fagioli perché alla fine sta cosa della pasta e fagioli che era pronta per i giornalisti ha dettato legge in tutta la conferenza stampa è avvilente è avvilente perché alla fine ci sentiamo esattamente come ci sentivamo prima quindi in una situazione di poca chiarezza di vediamo come va speriamo che kvara e osimen si riprendano in questa fase finale adesso osimen finirà la coppa d'africa poi tornerà vedremo quello che riuscirà a dare in campo ma non ci siamo tolti i dubbi non ci siamo tolti i dubbi comunque qualcosa di non raccontato c'è perché anche sullo stesso garcia che doveva essere cacciato dopo dieci minuti di conferenza stampa doveva essere cacciato dopo che i suoi preparatori atletici non avevano tenuto in considerazione il lavoro fatto da sinatti nell'anno precedente e anzi la situazione è sfociata nel licenziamento forzato di sinatti cosa di cui de laurentis si è pentito perché con il senno del poi dice forse avrei dovuto tenere quello e mandare via garcia e il suo entourage però quello che è fatto è fatto come guardare al futuro guardare al futuro con positività sperando che mazzardi e il gruppo reagiscano di squadra perché dal punto di vista societario oggi oggi lo abbiamo capito se mai ci fosse bisogno di ulteriori conferme che il napoli è un uomo solo al comando e fino a che questo non cambierà purtroppo tornare a vincere sarà molto complicato stracandidi di youtube fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate non schieratevi per favore pappò non pappò non me ne avete avuto il buon gusto di arrivare fino qui nel seguire il video per favore abbiate anche il buon gusto di commentare in maniera sensata davvero prometto che i commenti sensati verranno presi in considerazione e risponderò a tutti e se sarà anche il caso farò un video in cui risponderò ai commenti sensati vi abbraccio vi saluto vi auguro una buona giornata e marracuman stata va buona